secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie let's go ragazzi allora oggi siamo tutti assieme con radio xuderone per festeggiare questo evento davvero incredibile i 10.000 sape che sono arrivati dopo tanti anni di sacrifici come si sente xuderone ad averli raggiunti beh guarda devo dire che effettivamente è un traguardo incredibile che non aspettavo di raggiungere e mi ha fatto riempire il cuore di gioia beh lo credo bene che questa cosa è proprio un tuo sogno diciamo nel cassetto ma no guarda adesso io mi ripeto non pensavo sogno nel cassetto magari sono altri però sono davvero soddisfatto del mio lavoro e bello credo bene solamente le persone che ci danno da fare riescono a raggiungere sempre i propri obiettivi esatto è quello che penso io è così io posso andare avanti tranquillamente tutto il giorno a fare radio xuderone puoi farmi delle domande se vuole prendere quello chi? è quel barret mitico con la cagata lì eh non so cosa fa fa le cagate grazie mille Matteo ci dovrebbe essere anche il mate ok eccolo infatti arrivo arrivo si si ma me lo faccio io non si preoccupi no no ma ci sono ci sono oh calolo oh yeah baby what a son of a bitch figa franchino no non fare che rovini tutto cazzo buongiorno franchino benvenuto col prime buongiorno anche a gabsele yo 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 ciao ragazzoni andiamo ho già fatto il redditalino si si um con la fetta e i pomodorini molto buone seguo la f1 no seguo la figa no f1 io non vi prego potete mandare un fulmine a questi due perché io non ce la faccio a vedere queste cose mi sta venendo l'urticaria anale grazie amore mio te lo sistemo il computer amo allora se io sono stufa e qua fa un caldo della micia e tu qua tutto bello tranquillo parli di cazzo parli di cazzo fai queste cose qua ma vi piace proprio sto cazzo che ce l'avete sempre in bocca ma io con masseo non parlo di cazzo ma no ma manco parlate di figa sempre di cazzo parlate che è al momento o me ce l'avete a fungo a fungo io non amo masseo mi manda le foto dei cazzi ma se mi manda le foto dei cazzi amo hai visto le gif su whatsapp di masseo che mi manda ti conviene guardarle perché mi manda tutte le cose pornografiche ma soprattutto manda le foto di suo nonno che lecca cose non capisco perché lo fa e ora l'ho visto l'ho vista bionda propensa e fa ciao bello come stai ho capito che era tuo padre ho detto no grazie io non no grazie io non e no era così ragazzi ho detto non potevo non potevo tricots solo che qua avevamo 14 anni raga e sono sempre loro raga non c'è questo ragazzo qui quello con la mancola canotta bianca ma c'è sempre noi le ho risposto no ti mando questa cosa Sion divertiti Sion per miliardi di anni anni raga miliardi di anni porca guggioon vabbè buttalo giù sneaky guggioon vanno a ca vanno a ca manue ecco mi chiamo sei andato giù oh mi dispiace manue ecco mi chiamo let's go guys let's go guys si fa papà io non cambio le sta maglietta già l'hai già pensato e già la vero let's go cominciate la mia prima trombata non ci non riusciamo neanche a capire cosa stessa succedendo eravamo troppo piccoli non è stata molto bella troppo piccoli troppo troppo Sub-Zero non parla quindi andiamo pronti così dai ragazzi ma Davide non si deve preoccupare Davide non si preoccupi il male dice Exeter io ho 12 corone si Wiz ho già risposto a un altro ragazzo non c'è nessun problema se ha voglia di giocare giochiamo andiamo che problema c'è Davide il 20 aprile del 21 scrive scusami pensavo fosse una donna io ti metto il cazzo in bocca ok coglione e ti soffoco con le palle su GTA la mia proposta è sempre data fammi una bocchina e tu è cabuttana ma c'è tua figa bottana ti preoccupare che la gente capisce vai nel chill questo l'ha bannato Nello il 28 aprile del 20 quella foto lì quella foto lì è vecchissima amo quella foto lì è vecchissima si perchè sennò c'è quella trauma seduta i pantaloni sono stregato merda ragazzi ho una foto pesa io io oh xyuder il pazzo io io oh oh xyuder grande pazzo grazie fa rivedere la foto che hai fatto diciamo che quella senza ma guardi che ok mandalo mando mi stream riavviate la chat riavviate eeeh si si ragazzi tutti quei capelli lunghi raga c'è il delay riavviate 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 avete visto l'Alessio pensavo fosse tuo padre mio padre non ha capelli signori mio padre non ha capelli buongiorno uovo impanato io io è un rocker l'Alessio è un fratello raga 64 punti leclerc ha sbandato che era primo aspetta che guardo il cazzo che me ne frega no i red hot non non li ho mai ascoltati tanto vai let's go no me li taglia quella puttana di tua madre cavallone i peli del culo e di sera se ne è anche leccati un po' non sappiamo come mai e cosa ne penso del grazie di cuoro si la spesa finisce il 20 però a me piace togliermele dai piedi ragazzi sai poi c'è magari qualche bug qualche porcheria togliamocene facciamocene ah ok Lore vabbè sappia che non c'è nessun problema se ha piacere ci mancherebbe andiamo come è 1v2 dove cazzo è l'altro è dietro è morto è 1v1 va Jura eh Jura un folle però non può andar no vabbè Jura un folle grande vi ha fatto let's go porca troia merda porca vacca madonna è un folle no mi sembra un attimino eccessivo cioè abbiamo vinto eh che eh no ma era il momento un po' un po' più catartico si si è iniziato un attimino velo cattivo nel senso e non è possibile però non è possibile così tanto tempo porco di quel porco sono quello di prima mi piace come streame io lo ho detto solo per mettere un po' di sospensa è la tre volta che mi abbono grazie Niron grazie Narchese grazie